Il 12 novembre la missione Rosetta, dopo dieci anni di viaggio nello spazio, ha raggiunto la cometa P67. Lo scienziato cuneese Bruno Gardini, responsabile di Rosetta per 15 anni, è stato ricevuto a Palazzo Lascaris dai presidenti Mauro Laus e Sergio Chiamparino, con numerosi assessori e consiglieri. Nell'incontro ha illustrato l'impresa, straordinaria e senza precedenti, dell'Agenzia Spaziale Europea, nella quale la scienza e l'industria italiana e piemontese sono capofila. Qual è il ruolo del Piemonte in questa fantastica impresa? Una cosa che molta gente si dimentica in questi giorni, c'è una grande attenzione, una grande aspettativa per i risultati scientifici, c'è anche una grande attenzione mediatica. Molto spesso si dimentica che la sonda Rosetta è nata a Torino, è stata integrata, è stata testata, è stata fatta qui, nei locali della tale Salenia, in Corso Marche, anche se sono molti anni fa. Questo è un qualcosa che bisognerebbe ricordare, forse anche più sovente, perché l'industria piemontese e l'industria italiana in generale hanno dato un grande contributo a questa missione.